Fino a 15 ottobre nella sede della Biblioteca della Regione Piemonte è visibile la mostra Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carta e di latta 1900-1960 che espone scatole di latta, disegni, colori, etichette, targhe pubblicitarie. Prosegue l'esposizione di mostre fotografiche del Consiglio regionale all'Ottogalleri di Torino in calendario dal 4 al 10 agosto Una vita per l'Asia, il Tibet di Fosco Maraini e dall'11 al 17 agosto Piazze di Piemonte, architettura, urbanistica, eventi, quotidianità.